Ciao ragazzi, oggi prepariamo le ciambelline della mia terra, le ciambelline sarde, la farina, aggiungiamo lo zucchero, lo zucchero di canna, un pizzico di sale, scorza grattugiata di un limone bio, cannella, vanillina, lievito vanigliato, burro freddo, uovo, liquore, impastiamo fino a ottenere un panetto, una volta ottenuto facciamolo riposare in frigo per almeno mezz'ora e stenderlo tra due foglie di carta forno, ritagliamo i biscotti, disponiamo i biscottini a coppie, uno sarà intero e l'altro invece avrà il buchino, una volta tagliati tutti i biscottini andiamo a turno ad infornarli, una volta sfornati i biscottini andiamo a farcirli con marmellata a piacere oppure nutella,